Cari amici, buongiorno e benvenuti al CSF, Centro Servizi e Formazione di Mellito a Napoli. Io mi chiamo Luca Bracali, in questo caso sarei il docente di fotografie. Farò vedere quelli che sono gli strumenti necessari, indispensabili per portare a casa uno scatto d'impatto, in modo tale da trasformare i nostri allievi in autentici professionisti. Seguiteci! Grazie a tutti! Quindi giocatemi sull'effetto chiaro-scuro, sulla siluetta. Grazie a tutti! 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 La prima cosa che insegno da imparare è l'umiltà e la modestia. L'attrezzatura sicuramente è importante, ma il primo degli elementi a livello tecnico è il cuore e il cervello. Quello che non dovete mai temere, e questo ve lo dico guardandovi ancora di più negli occhi, è il confronto. Imparate ad essere umili e modesti, lo ripeto per la seconda volta, dovete guardare i grandi fotografi, imparare ad apprezzare la fotografia senza criticarla, non diventate mai cloni di nessuno, di nessuno. Però dovete prendere ispirazione, trarre ispirazione, solo così diventerete maestri della vostra arte e potete realizzare anche voi i vostri grandi scatti. Auguri, bocca al lupo. GSF e PIP, bocca al lupo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.